Buongiorno, buon martedì 26 febbraio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, mattino 6 che inizia subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, poi andremo a dare un'occhiata anche ai titoli nazionali. Partiamo dal centro edizione di Pescara che apre con la sanità freddo, assalto al pronto soccorso, Pescara boom di accessi attese di ore, i reparti scoppiano, stop ai ricoveri in geriatria. Adesso andiamo invece nel taglio alto con la politica giunta dell'Abruzzo, lega l'attacco, butta Marsilio e Salvini mette Pagano all'angolo, poi l'intervista Legnini, il mio modello Abruzzo è convincente, poi abbiamo le elezioni in Sardegna dove vince Solinas per il centrodestra, ma il primo partito è il Partito Democratico, crolla il Movimento 5 Stelle. E poi andiamo a vedere adesso nello spazio delle cronache le notizie da Pescara, avvocati al voto in 1700 scelgono il Presidente, due le liste in campo oltre a quattro nomi indipendenti e poi a Montesilvano la riviera coperta di sabbia, il vento ferma la pulizia. Nel capologo adriatico operai a lavoro in via Regina Margherita, ecco i cordoli, stop le invasioni di auto sulla pista ciclabile, poi ancora rifiuta di curarsi, muore a 29 anni, siamo nel taglio centrale, il giovane ha deciso di lasciare l'ospedale di Teramo prima di essere ricoverato. Di spalla troviamo il calcio perché questo pomeriggio alle ore 18 si gioca in Serie B, Gravion Centrale, il Pescara Benevento per difendere il terzo posto. A questo proposito vi ricordo l'appuntamento attorno alle 17.30 con Diretta Stadio per seguire insieme ad Andrea Costantini e i suoi ospiti e da Benevento Paolo Renzetti per il commento della gara e soprattutto per le interviste nel dopogara. Vi invito dunque a seguire Diretta Stadio. Proseguiamo con il giornale Il Centro, andiamo a vedere le altre edizioni provinciali, passando da quella di Chieti Lanciano Vasto in apertura, aggressione razzista, condannata, Chieti insulta una ragazza di colore e le strappa i capelli, scattano multa e risarcimento. Andiamo poi a vedere lo spazio delle cronache. Pizzo al cimitero, la polizia apre le tombe, siamo a Vasto, continua l'operazione Eterno Riposo, la polizia torna al cimitero, non è sfuggita ieri mattina la presenza al Camposanto degli agenti del commissariato, i poliziotti hanno aperto alcune tombe. Ancora a Lanciano boom di divorzi, matrimonio, la crisi dei dieci anni. Poi a centropagina a Chieti le liste d'attesa infinite, ospedale, l'ecografo è rotto, niente esami alla tiroide. A centropagina a lasciare, scusate, a sciare con lo spinello, quattro nei guai, controlli a Passo Lanciano sotto accusa Giovani di Chieti e Rocca Montepiano. Di spalla il cinema con i premi Oscar, vince il film Green Book Galà nel segno dell'inclusione. Andiamo a vedere anche la prima pagina di l'Aquila Vezzano Sulmona. In apertura, bimba non vaccinata, niente scuola, bocciata dal Tarra all'Aquila alla richiesta dei genitori di sospendere il divieto della preside. A Sulmona nelle cronache la nuova giunta, ecco i nomi, caos nel Partito Democratico. Il sindaco Casini ha definito il nuovo esecutivo con il quale si dice sicura di arrivare a fine mandato. Poi ad Avezzano, droga ordinata al telefono, dieci gli arresti. E a centropagina troviamo invece dall'Aquila l'innovazione al Tecnopolo d'Abruzzo, prima videochiamata all'Aquila con la tecnologia 5G. Nel taglio centrale troviamo la cronaca, morto nel fiume due indagati per omicidio. San Benedetto dei Marsi sono i giovani che hanno detto di averlo visto per ultimi. E poi nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Tutti amano l'italiano tranne noi. Una riflessione sulla notizia che vede l'italiano appunto quarta lingua più studiata al mondo. Proseguiamo con l'edizione terramana del centro. In primo piano non si fa curare, muore a 29 anni, tragedia e annerito. Il giorno prima era andato in ospedale ma senza farsi visitare. Nelle cronache andiamo a Teramo. Non si può usare l'auto per colpa della burocrazia. Da qualche mese vive in un incubo, ad occhi aperti e finito senza saperlo in un ingranaggio della burocrazia. Per adesso ad avere la peggio sono lui e la Smart di seconda mano. A Tortoreto, caso Bonipasto, tabaccaio, querela, sindaco e giunta. A centropagina poi il tragico incidente avvenuto vicino a Roma. Era originario di Tottea, il 14enne, morto per il vento. Nel taglio centrale il tentato omicidio era premeditato. Torniamo a Tortoreto, si aggrava l'accusa per l'uomo che ha coltellato in strada la fidanzata venerdì scorso. Andiamo a vedere adesso, cambiando testata, l'inserto abruzzo del messaggero. Nella prima pagina, in primo piano, cura urbanistica anticrimine. Siamo a Rancitelli, a Pescara, controllo degli accessi e sorveglianza naturale tra le linee di intervento dell'INU, uno studio per rilanciare le periferie metropolitane. Ieri, nuovo blitz intanto delle forze dell'ordine. Restiamo a Pescara, dove ci sono i cordoli contro l'invasione delle auto, bici sicure in via regina Margherita, in centro città. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Nella fotografia vedete la stretta di mano per il passaggio di consegne fra Lolli e Marsilio. Regione, il giorno del debutto, Marsilio al lavoro. Ora serve chiaramente definire la giunta. Poi la cronaca. Droga e sci fioccano le denunce dopo il blitz a Passo Lanciano. Carabinieri in azione sulle piste nella rete. Quattro giovanissimi. Ancora la cronaca coca e asci scacco al clan dei marocchini ad Avezzano. E poi donne nel mirino, l'accoltellatore di giusi piange ma non risponde alle domande del giudice. Di spalla andiamo invece cambiando argomento sulla costa dei Trabocchi. Piatti d'autore per scoprire la costa dei Trabocchi. Pescatori, chef insieme. Torna le stagioni del mare in versione invernale. Nel taglio basso l'Aquila rinasce. Ponte Belvedere è tutto da rifare. È necessario riaprire il dibattito cittadino. È quello che chiedono alcuni degli inquilini del Civico 29 che si trova al di sotto del viadotto. Nel taglio alto come sempre le altre notizie. La prima telefonata pronto Barcellona. L'Aquila in linea. Da ieri in realtà il 5G, la rete del futuro. In Serie C nel Teramo Maurizio rinnova il contratto per due anni e per quanto invece riguarda la Serie B il Pescara. La prova Benevento-Campagnaro resta in dubbio oggi nell'anticipo del turno infrasettimanale. I biancazzurri tentano di staccare la concorrente per la Serie A. In difesa rientra Balsano. Questo è anche il messaggero. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo in apertura dal carcere. Chiede come sta la ex. Chiaramente parliamo dell'accoltellamento di Tortoreto. L'ex fidanzato Fasce Namuta per ora non è in grado di sostenere l'interrogatorio. Nel taglio alto domenica al voto il PD si divide così per le primarie. A Giulia Nova la Cameli cambia le carte in tavola. Montorio Alvomano e il sindaco Facciolini si dimetta. Questa la richiesta rivolta al primo cittadino. Poi a centropagina ritroviamo il passaggio di consegne in regione. Il governatore detta le sue priorità. L'agenda Marsilio, ricostruzione, sanità, lavoro ed infrastrutture. Di spalla, memoria Omar Code, la città spaccata sul 2D Coppe e poi ancora a Teramo 42 telecamere su lampioni intelligenti. Nel taglio basso la buona notizia. Notaresco ha salvato in extremis lo sportello IMSS di Atri. Troviamo anche l'editoriale del direttore Alessandro Missonni. Il titolo La politica straordinaria. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo come di consueto lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo così dal Corriere della Sera. In apertura chiaramente c'è il voto in Sardegna. Vince il centrodestra Caos 5 Stelle. Questo è il sunto un po' di quanto accaduto ieri sull'isola. Exit Polo smentiti. Solina seletto con il 47,7%. La Lega non sfonda Salvini. Siamo 6 a 0 sul PD. I Dem sono comunque il primo partito sull'isola. Lista dei 5 Stelle sotto il 10. Lira di Grillo su Di Maio. Pronto un direttorio. Efico. Dice viva la democrazia. C'è l'editoriale firmato da Antonio Polito sulla prima pagina del Corriere. I calcoli sbagliati. È il titolo abbastanza eloquente a commento di quanto accaduto ieri nelle elezioni. E non solo. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Scendiamo nel taglio centrale. Il ministro che investe si allontana a Tria, il sia la Tav. Rinnegare i patti danneggia l'Italia. E poi ancora a Hollywood gli Oscar dell'antirazzismo decisi con il manuale Cencelli. Green Book, Miglior Film, statuetta a Coleman e Malek. E qui vedete proprio la foto dei premiati. Passiamo sulla Repubblica. Anche qui c'è il titolo a commento delle elezioni in Sardegna. 5 Stelle ai minimi. Processo a Di Maio. Salvini non tornerò con Berlusconi. Questa è la rassicurazione diretta ai suoi alleati di governo da parte del leader della Lega. In Sardegna vince il centrodestra. Grillini all'attacco di Tria. Il leader leghista lo brinda. Fiducia in lui il riferimento a quanto detto da Tria sulla Tav e sui contratti da rispettare. Andiamo a vedere poi il punto firmato da Stefano Folli. Il conflitto dei due governi. Le due anime appunto del governo gialloverde che molto spesso vanno in conflitto tra loro. Andiamo a vedere poi il messaggero. Il titolo di apertura. Sardegna al centrodestra. Movimento 5 Stelle. Processo a Di Maio. Solinas stacca Zedda. 5 Stelle solo quarti. Salvini. La Lega batte 6 a 0. Il PD. La linea è dura con l'alleato. Spacca i grillini. Conte. Il governo non rischia questa rassicurazione del Premier. Tornano le coalizioni. Gli elettori uniscono ciò che i leader dividono. Scrive Marco Gervasoni a commento delle elezioni. E poi l'ira di Toninelli. Tria spinge la Tav. Investitori in fuga se saltano i patti. Così il ministro dell'economia. Scendiamo nel taglio centrale. 6 anni all'ex sindaco di Roma. Le manno. Non sono corrotto. Pago per le nomine. Questo il suo commento nella sentenza sul mondo di mezzo. L'ex sindaco parla dopo la condanna. Buzzi. Cercavo voti a sinistra. E poi a centropagina. Schianto in via Le Mazzini. L'albero doveva essere abbattuto. Pino sulle auto. Strage sfiorata a Roma. Uno dei feriti. No alla visita di Raggi. Ha detto. Pensi a curare il verde. e non ha voluto incontrare il sindaco. Andiamo sul fatto quotidiano. Anche qui in primo piano le regionali in Sardegna. La destra si prende la Sardegna. Flop 5 stelle che ora cambia pelle. Exit poll sballati perché avevano dato un testa a testa fra centrosinistra e centrodestra. PD comunque primo partito. Zedda ferma al 33. Salvini non sfonda questo. Il sunto del fatto quotidiano. E poi a centropagine invece troviamo la giudiziaria. Due Renzi sotto torchio per sei ore. Ma l'iPhone di Tiziano resta il tabù. I genitori come nel caso Consip. La procura non chiede il sequestro del cellulare. Sul mattino di Napoli il titolo di apertura. Frana 5 stelle. Processo a Di Maio. Quindi vedete un po' tutti i quotidiani nazionali si concentrano su quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle. Dopo la sonora sconfitta in Abruzzo. Anche quella in Sardegna. Insomma i dati sono quelli. Cresce la fronda interna nei 5 stelle che sono sotto il 10 per cento in Sardegna. Salvini avverte Forza Italia. Non sarò io a mettere in difficoltà l'alleato. Conte rassicura. Il governo non rischia. Andiamo poi nel taglio alto. La guerra dei clan. Ecco qui vi sottolineo anche il titolo. La guerra dei clan ai pizzaioli star nel cuore di Napoli dopo Sorbillo stesa contro il locale di Di Matteo. Andiamo sul manifesto. Titolo come sempre con un gioco di parole da parte del quotidiano comunista. Sardi di fine stagione. Anche la Sardegna dopo l'Abruzzo va al centro-destra. Solinas col 47,8 per cento. Il nuovo presidente. La Lega non vola. Massimo Zedda al 33. Traina il centro-sinistra. Il PD ai minimi termini. Altro flop dei 5 stelle. Il candidato all'11 per cento. La lista tracolla al 9. Proseguiamo sulla verità. Ne elezioni regionali con risvolto surreale. L'apertura sono sardi. Mica sordi. Per 24 ore sulla base degli exit poll si è commentata una inesistente rimonta del PD. Gli elettori ricordano benissimo le promesse mancate. Hanno votato in massa per il centro-destra. Ma le 5 stelle però il governo non rischia. E anche qui poi abbiamo l'interrogatorio dei genitori di Renzi. Torchiati. Quattro ore si spacca il fronte della difesa. Cambiamo testata. Andiamo sulla stampa. In apertura. Berlusconi a Salvini. Ora rischi tu dopo il crollo. I grillini trovano un colpevole. Tria e le aperture sulla Tav. Se vuol lasciare non lo fermeremo. Sardegna dove prevale il centro-destra. Forza Italia all'alleato. La gente apre gli occhi sui disastri del governo. E qui trovate anche le variazioni rispetto a politiche del 2018 e regionali del 2019 con le varie liste e i voti persi. Il commento di Mattia Feltri. centrodestra. Ma la Lega non tornerà ad arcore sulle parole di Salvini che fanno presagire un tentativo anche di andare da soli da parte dei leghisti. E poi a centropagina una notizia che non abbiamo trovato sugli altri giornali almeno sulle prime pagine. Trump-Kim il summit che può far finire la guerra di Corea. Inizia domani il vertice di Hanoi sul nucleare. Vertice importante a cui guarda un po' tutto il mondo con attenzione. Andiamo sul tempo. Governo sotto le macerie a 5 stelle. Sardegna vince il centro-destra ma la Lega è preoccupata dalla caduta dei 5 stelle sotto il 10%. Nella cerchia di Salvini si sussurra. Di Maio non tiene più i suoi qui in Senato. Bagliamo e bisognerà vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Andiamo sul secolo d'Italia. Centrodestra piglia tutto. Il titolo diciamo che sottolinea la vittoria in Sardegna. Battuta alla sinistra. Crollano i 5 stelle. Povero Conte. E poi in primo piano che suicidio dei grillini. Un voto verso la Lega. Di Maio. Movimento 5 stelle vivo e vegeto. Ma Gasparri lo ridicolizza. Alemanno condannato. Dimostrerò la mia innocenza. Queste le parole dell'ex sindaco di Roma. Andiamo sul Sole 24 Ore dove c'è proprio un'intervista al Premier Conte in primo piano. L'Italia deve correre. Dice il primo ministro. Nasce per i progetti di investimento. Invest Italia. Progetti che provengono da ministeri, regioni e dagli altri enti locali. Sarà formata da tecnici e funzionari. Dice Conte. Il governo vuole mettere il turbo al paese sul fronte delle infrastrutture. Va creata un'autostrada a tre corsie per la crescita con una Ferrari da guidare. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti. E poi dopo il verdetto di Fitch sul rating dell'Italia. Mercati comprano Italia. Spread giù a 266 punti base. Piazza Affari più 0,86%. Oggi e domani aste del tesoro per 13 miliardi. Botta a sei mesi e BTP a 5-10 anni in vendita. Vedremo come andranno queste aste per finanziare il debito pubblico. Nel taglio basso aumento dei dazi rinviato. Trump prolunga la tregua con Pechino e soprattutto le borse asiatiche hanno esultato per questa decisione di Donald Trump. Proseguiamo su avvenire. In primo piano chiaramente il sinodo che si è concluso in Vaticano sulla pedofilia. Abusi l'ora di agire il Papa. Ecco come nelle conclusioni l'annuncio di un motu proprio e di una guida. Il segreto pontificio da rivedere. Queste sono alcune delle decisioni per la verità. Il comitato delle vittime e degli abusi si è detto molto deluso dal sinodo che al loro giudizio non ha fatto uscire una posizione diciamo concreta da parte della Chiesa ma solo delle promesse. A centropagina Sardegna Movimento 5 Stelle a picco il titolo sulle elezioni regionali sarde. Adesso andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani per quanto riguarda lo sport. Partiamo dalla gazzetta dello sport e chiaramente in primo piano ci sono le polemiche del dopo Fiorentina-Inter. Abisso paga ma l'Inter non basta. Marotta è un danno incalcolabile. La D attacca l'errore più grande da quando esiste il VAR al direttore di gara che ha sbagliato a Firenze. Tre turni di stop e niente nero-azzurri fino a fine stagione. Dunque questa la decisione su Abisso e vedete questa foto in cui mima proprio il tocco con il braccio che però sembrerebbe esserci non esserci stato. Poi nel taglio alto Coppa Italia Gattuso-Cicova semifinale di andata Lazio-Milan sul Rai 1 alle 21 Ringhio cerca il primo trofeo da tecnico. Oggi Lazio-Milan domani alle 21 Fiorentina-Atalanta i ritorni previsti il 24 di aprile. E poi ancora il premio della gazzetta in memoria di Facchetti. Vialli bello del calcio, il mio mondo tra idee e coraggio, la malattia, l'otto più che da giocatore. Queste le parole di Vialli. Nel taglio basso troviamo invece la Juve. Juve CR7 frena e in Italia il dribbling della gioia i momenti di Ronaldo e di Bala. Andiamo sul Corriere dello Sport adesso il titolo. Anche qui su Fiorentina-Inter ha variato il titolo abbastanza eloquente sull'arbitro. Serie A nel caos sotto accusa l'uso della moviola. Marotta a parole di fuoco. A Firenze l'errore più grave da quando c'è la tecnologia. L'Inter ha subito un danno irreparabile. Abisso fermato un mese senza arbitrare. Nel taglio alto la Coppa Italia, Lazio-Milan Coppa e Falcao. Stasera la prima semifinale alle 21. Immobile-Piontech è la sfida del gol ma le due società si contendono Radamel che ieri era nella capitale. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Cardi, Juve o Napoli nel futuro? Bufera su Maurito che non vuole lasciare l'Italia e Perisic diventa il leader nero-azzurro. Andiamo a vedere le altre notizie su tutto sport. In apertura c'è la Juve. Galeone svela il futuro di Max. Allegri lascia. E poi Ronaldo spazza via le voci. Io resto qui. Voci che avrebbero voluto l'asso portoghese in partenza da Torino. Di spalla, forza donne. Il Toro costa come un caffè. In Coppa Italia, prima semifinale. Occasione Milan-Lazio senza difesa. Poi il caso Propriacenza ha infangato la città. Il reportage sul club cancellato dal calcio. Questo per quanto riguarda la prima parte di Mattino 6 che chiudiamo qui per dare spazio alla pubblicità e al meteo. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna in cui andiamo ad aprire come sempre le pagine interne dei quotidiani regionali per approfondire le notizie dall'Abruzzo. Vi aspetto. E dunque eccoci qui per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo nelle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dalla politica, dalle pagine di primo piano del centro. Doppia pagina dedicata al passaggio di consegne ieri in regione fra, lo vedete nella fotografia, il vicepresidente vicario della regione Giovanni Lolli e il neoeletto presidente Marco Marsilio. Dunque le parole di Marsilio. Sento il peso della responsabilità. Il presidente si è insediato dopo il passaggio di consegne. La regione può crescere, ha detto. Punteremo molto sulle infrastrutture. Nel frattempo il rebus della nuova giunta. Salvini sgancia una bomba su Pagano. In Abruzzo ci fa solo perdere tempo. Il braccio di ferro fra Carroccio e Forza Italia va in scena in tv da Nicola Porro e mette Marsilio con le spalle al muro. La Lega deve per forza dare i quattro assessorati. Vedremo come finirà questa querelle. E poi l'intervista a Legnini. Modello Abruzzo sempre più convincente. Io e Zedda la vera alternativa a sovranismo e populismo di Lega e Cinque Stelle. Il capo dell'opposizione progressista conferma la legge elettorale è da impugnare. Sardegna chiama Abruzzo per PD e Forzisti. Il Movimento Cinque Stelle sta precipitando verso il basso. Questo è un po' il commento anche dalla nostra regione delle elezioni in Sardegna. Andiamo sul messaggero per vedere anche qui il debutto di Marsilio da governatore in via ufficiale. Governatore al lavoro. La giunta in alto mare all'Aquila. Passaggio di consegne con Lolli che suggerisce le priorità. Segui occupazione e infrastruttura. La prima riunione è con Pagano e Zelli per cercare una quadra sulla giunta. In cammino anche il centrosinistra. Legnini aderisce al gruppo della sua lista civica e incoraggia i ricorsi. Poi il partito riparte. Primaria del PD, Piazza Grande lancia la volata per Zingaretti. Fra poco vedremo entrambi i servizi. Intanto andiamo sulla città per completare la lettura delle pagine di politica. Passaggio di consegne fra Lolli e Marsilio. Il titolo della città. Il presidente eletto prende la guida della regione. La priorità saranno ricostruzione, sanità, lavoro e infrastrutture. Sulla giunta dice spero che ci sia da parte di tutti un atteggiamento di saggezza e lungimiranza. E troveremo la sintesi di spalla. Pagano, dobbiamo essere in giunta per rendere più forte Marsilio. Pagano che reclama una posizione di forza da parte di Forza Italia. Scusate, il gioco di parole. Poi Legnini annuncia un'opposizione leale e intransicente. Il ricorso sull'attribuzione dei seggi deve essere promosso dai non eletti, secondo il vicepresidente del CSM. Dunque, andiamo all'Aquila e andiamo a vedere che cosa è avvenuto ieri in regione per il passaggio di consegne. Con la consegna della pesante targa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio si è ufficialmente insediato a Palazzo Silone, sede della giunta regionale. Il passaggio di testimone tra il presidente vicario uscente, Giovanni Lolli, e il neopresidente della regione, Marco Marsilio, è stato fatto sottolineando ancora le criticità della regione. Questa è una regione che dal punto di vista del proprio apparato industriale, con tutti i limiti, e dal punto di vista della sua struttura agricola, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda la trasformazione, è a tutti gli effetti una regione paragonabile a una regione del centro-nordo. Ma dal punto di vista delle infrastrutture, vecchie e nuove, dal punto di vista dei servizi e dal punto di vista del funzionamento della pubblica amministrazione, è una regione meridionale. Siamo tutti consapevoli, e mi fa piacere che lo siamo in maniera trasversale, che questa regione potrebbe essere in grado di moltiplicare la propria capacità di produzione, di ricchezza, di posti di lavoro, di benessere per i propri cittadini, se riuscissimo a risolvere alcune importanti vertenze che non si risolvono soltanto lavorando duramente qui in Abruzzo, ma anche portando il tema Abruzzo sui tavoli nazionali ed europei, dove le scelte strategiche si fanno e si individuano le risorse necessarie. Io mi metterò al servizio di questo progetto, insieme a me lo farà tutta la coalizione, alla quale chiedo di essere aiutato nel portare avanti questo immane lavoro, e anche alle opposizioni, ovviamente rivolgo l'appello a lavorare nell'interesse della regione, a lavorare insieme per sfidarci sulla qualità delle proposte, non per bloccare quello che si fa, ma per suggerire, proporre, aiutare, soprattutto nelle cose che ci accomunano e che sentiamo insieme come utili per la nostra regione. Quindi questo è lo spirito con il quale assumo questo incarico, spero di avere la forza e di conservare sempre la serenità e la lucidità, nonostante immagino, come già mi è stato detto dal predecessore, la giornata sarà sempre piena di carte, di faldoni e di dossiere che piovono sul tavolo, perché ogni giorno sarà pieno di emergenze, però cercherò di comporre una squadra che mi aiuterà a filtrare queste emergenze, a dividersi il peso di queste responsabilità e a fare in modo che poi si riesca ad andare avanti, ad assumere le decisioni che servono nell'interesse dei nostri cittadini. Il presidente Marsiglio ha poi fatto un giro a Palazzo Silone visitando gli uffici e incontrando il personale. Adesso la pagina Abruzzo del centro dove si parla invece di sanità, lo scontro, i bilanci ASL nel mirino del centro-destra, la Corte dei Conti fa pesanti rilievi sui conti 2016, in cima a Chieti e l'Aquila, meno 25 milioni e meno 21 milioni, solo Teramo è in attivo, questo dunque lo scontro sulla sanità. Nel taglio basso invece l'aeroporto, addio in anticipo al volo Pescara-Torino, era previsto fino al 29 di marzo, ieri l'ultimo decollo malgrado le trattative e ora nessuna alternativa. Andiamo nelle pagine di Pescara, nuova emergenza, freddo e malanni, assalto all'ospedale, l'apertura, al pronto soccorso 300 accessi in una mattinata e attese di ore, anche i reparti scoppiano, stop dei ricoveri in gerietria. Il primario Albani e il vice direttore dell'ASL di Luzio, chi ha patologie più semplici, si rivolga ai medici di base e alle guardie mediche. Poi è per le allergie, il reparto è ridotto all'osso, il servizio concentrato in un'unica stanza, foschi, lunghe liste d'attesa, impossibile eseguire i test. Nella pagina successiva, verso le comunali, siamo nel centro-sinistra, Teodoro avverte il PD, non sbagli il sindaco, l'assessore ancora incerto se correre da solo o appoggiare la coalizione, attendo di conoscere programma e candidato, dice. Poi il Movimento 5 Stelle che si prepara al voto, Alessandrini, lista con 32 candidati, la consigliera pronta a correre a sindaco e poi domani appuntamento al Galilea e gli ex consiglieri nelle scuole per fare lezioni di senso civico. Nel taglio basso di questa pagina, Piazza Grande per Zingaretti, ripartiamo dal modello Abruzzo, il Partito Democratico, verso le primarie del 3 di marzo. Possiamo andare a vedere il servizio. Presentazione della lista che appoggia l'elezione eventuale di Nicola Zingaretti alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico, il perché catena di questa scelta? Perché abbiamo bisogno di una forte, radicale discontinuità con il passato, gli elettori ci chiedono di cambiare, noi dobbiamo offrire un'alternativa al Paese, a questo governo che sta portando il Paese a sbattere e l'unico modo per dare un'alternativa è quello di costruire un nuovo PD con un nuovo centrosinistra, ricostruire una larga coalizione di centrosinistra come abbiamo fatto qui in Abruzzo, perché in questo modo noi possiamo tornare a sfidare la maggioranza di centrodestra, la maggioranza populista che governa il Paese. Nicola Zingaretti è la persona migliore per fare questa scelta. La maggior parte degli iscritti sono già pronunciati qui in Abruzzo, la mozione Zingaretti ha ottenuto il 49% e passo dei consensi degli iscritti, quindi siamo già maggioranza tra gli iscritti, siamo fiduciosi che con il voto delle primarie, dove parteciperanno anche tanti cittadini non iscritti al PD, Zingaretti sarà ampiamente oltre il 50%. Abbiamo bisogno di discontinuità rispetto al passato, sia rispetto al governo del Paese, sia rispetto anche a ciò che abbiamo fatto di buono alla Regione, ma con un giudizio degli elettori che è stato quello che è stato, quindi senza Abruzzo abbiamo bisogno di cambiare. Invitiamo i cittadini a votare, si vota il 3 marzo dalle 8 alle 20, possono votare anche i non iscritti al PD e con il documento di identità alla tessera elettorale, venite a votare perché può ripartire una speranza per il Paese. Andiamo avanti, in Viale Regina Margherita, ancora sul centro si parla della pista ciclabile, arrivano i cordoli, stop alle invasioni delle auto, dopo la protesta e gli appelli dei cittadini e degli ambientalisti, cominciati i lavori per tutelare chi va in bicicletta. Per i mezzi ora è impossibile parcheggiare in doppia fila, ma il tracciato è sbiadito e pieno di dossi. Poi in via Teramo partiti i lavori per le fogne, riaperto ieri, corso Vittorio Emanuele, ripristinato il doppio senso di marcia. Il porto canale, ancora a Pescara, aree di sabbia e acqua alta un centimetro. All'altezza della canaletta si sono formate delle isole, il fiume non è più navigabile, ma il dragaggio non può riprendere, ma anche il progetto dell'autorità portuale. Proseguiamo con le toghe al voto. Domani e giovedì avvocati 29 candidati per 1700 elettori, due liste e quattro nomi indipendenti in pista per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine che resterà in carica fino al 2022. Pagina successiva, viale d'annunzio, l'opera incompiuta, Teatro Michetti, i lavori termineranno tra due anni, l'intervento di restauro iniziato nel 2016 è fermo per un contenzioso legale. A maggio forse il via al secondo appalto per il terzo, manca un milione e mezzo. Nella pagina di Montesilvano, i danni dal maltempo, il vento blocca la rimozione della sabbia sulla riviera, operai a lavoro in via Moro dalla mattina per liberare strade e marciapiedi, ma nel pomeriggio il maltempo blocca tutto, Cigli dice sono otturati anche i pozzetti di scarico. Di spalla, avviso del comune, viaggi per la riabilitazione, rimborso spese ai disabili. Poi nella pagina successiva, raccolta porta a porta, due giorni di lezione al Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, sempre a Città Sant'Angelo, nuovo PRG, l'obiettivo è 18 mila abitanti. Poi nella pagina successiva, scooter contro furgone, 53enne finisce in ospedale, l'incidente ieri mattina a lungo la nazionale adriatica a Francavilla al mare, bloccato il traffico per ore, periodo nero per le strade di Francavilla, per un numero di scontri e investimenti. Poi di spalla, laser sugli occhi, mentre guida, donna rischia l'incidente. A Francavilla funzionano i pennelli anti-erosione, stabilimenti al sicuro, nonostante la mareggiata dei giorni scorsi. Completiamo le pagine di Pescara. Sul centro, a New York, gli arrosticini portano la firma di Tom, imprenditore di 37 anni che ha origini caramanichesi e sabato ha ricevuto l'attestato di benemerenza dal sindaco. Ora andiamo sul messaggero per le pagine di Pescara. In primo piano, la cura degli urbanisti per Rancitelli. L'INU lancia uno studio per ripensare gli standard di sicurezza delle quartiere Ghetto e delle altre periferie dell'area metropolitana. Senso del territorio, sorveglianza naturale, controllo delle vie di accesso e manutenzione sono le linee di intervento. La rivista Abruzzo 2020 svela la ricerca. Roberto Mascarucci commenta un passo per rilanciare l'interesse verso questi ambiti insediativi. E poi, dopo la droga, le false griff, controlli senza sosta nel quartiere di Rancitelli da parte delle forze dell'ordine. Legalità, welfare, infrastrutture, agenda dei sindacati per il sindaco che verrà. Si governa pensando solo al quotidiano, se è vero il giudizio dei tre segretari confederali sui ritardi di Pescara. Andiamo avanti, i ciclisti promuovono il nuovo cordolo ciclabile più sicuro in via Regina Margherita. Poi, andiamo a centropagina, Teatro Michetti, rescisso il contratto con De Cesare. Il Comune ha scelto la risoluzione consensuale per evitare i contenziosi due lotti e tre milioni per finire l'opera di restauro. Andiamo avanti, la politica PD da Costantini con un altro simbolo. Il candidato sindaco ribadisce il no all'alleanza con il Governo cittadino. Gruppo di lavoro in via Lungaterno per un'alternativa. L'idea di calenda per unire il centro-sinistra alle europee sotto una stessa sigla può essere la via d'uscita per il Comune. Poi, andiamo a vedere a Montesilvano, barriere antirumore sulla linea ferroviaria. E poi, sorpassa le auto in coda e cade dalla moto, traumi e fratture, l'incidente a Francavilla. Restiamo sul messaggero, andiamo a vedere le pagine dell'Aquila. Poca gente costretti a chiudere il commercio in centro fa fatica. Tra cantiere e sotto servizi stenta a ripartire il cuore della città. 60 aperture in un anno, ma è ancora incerta la vita degli esercenti che hanno scelto di scommettere il racconto che arriva proprio dal cuore dell'Aquila. E poi, Ponte Belvedere, stop alla progettazione, tutto da rifare. Riuscisse il contatto con lo studio tecnico che stava portando avanti il procedimento. Poi, l'Aquila chiama a Barcellona. Il 5G è qui. Prima videoconversazione con l'utilizzo della nuova tecnologia. Il sindaco Biondi e la rettrice Inverardi hanno parlato con la DDZTE. Contattato il Mobile World Congress che si svolge in Spagna, dalla sede del Tecnopolo dove opera il colosso delle telecomunicazioni. Nella pagina successiva, cocaina e hashish, sgominata la banda dei marocchini, 15 tra arresti in carcere e a casa, scusate con un obbligo di dimora, gli strani appuntamenti con pagamenti e richieste prestabiliti. 1.400 dosi e ha una quarantina di euro l'una il risultato del redditizio commercio. Andiamo nel taglio basso. La nuova giunta nasce dall'accordo tra centrodestra e centrosinistra e il commento sulla formazione della nuova giunta a Sulmona. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila anche sul quotidiano Il Centro. Andiamo a cercarle subito. Partiamo dalla decisione del TAR che accoglie le tesi della ASL. La bimba non è vaccinata, niente scuola. Bocciata la richiesta di sospendere il divieto di accesso della preside, l'interesse alla salute pubblica è prevalente. E poi una casa dello studente diffusa in centro, intesa fra Comune e Ateneo e GSSI. Abitazioni equivalenti in fitto agli universitari più meritevoli. Nel taglio basso di questa pagina, prima videochiamata dall'Aquila con il 5G, abbiamo già visto anche in precedenza. Pagina successiva. Il giallo di San Benedetto dei Marsi, morto nel fiume e due indagati per omicidio. Si tratta di due 27 anni che per ultimi hanno raccontato di aver visto Dorazio. Domani l'autopsia. Dubbi su una ferita al collo. Nel taglio basso sfida a duello il poliziotto e finisce nei guai. 49enne promette anche di dare fuoco alla caserma dei carabinieri. Proseguiamo con il Comune di Sulmone. La crisi risolta. Gli ex nemici si alleano. L'aggiunta è fatta. Varato l'esecutivo di Masci Casini al lavoro per la città, ma i nuovi assessori Cozzi e Fasciani rischiano l'incompatibilità. E poi nel taglio basso, Pietra sfonda il parabrezza del bus a scanno. Tragedia sfiorata per l'autista del Pulmantua e tre passeggeri. Andiamo a vedere adesso sul quotidiano Il Centro, le pagine di Chieti. Festa finita in violenza, la sentenza, litigio con insulti razzisti, condannata, multa e risarcimento, la pena per un 27enne responsabile dell'aggressione a una giovane di colore davanti ad una discoteca. Poi ancora, sferra a pugni all'auto della ex compagna, finisce a processo un 39enne accusato di maltrattamento in famiglia, terrorizzate anche le due figlie. Nella pagina successiva, il Comune in Rosso ha chiesto il Consiglio sia al prestito di 5 milioni per pagare i debiti, i soldi erogati a marzo, ma non saranno pagati tutti. Molti creditori restano fuori. L'opposizione chiede le dimissioni di Di Primio, che invita a costruire, e dicendo costruiamo un'alternativa da parte del centro-sinistra. Forza Italia chiede intanto un rimpasto di giunta, venerdì riunione di partito con il consigliere regionale Febbo, obiettivo rilanciare l'amministrazione, che diciamo tra poco andrà a scadenza. Poi ancora sulla neve con la scorta di droga, il blitz a Passo Lanciano è avvasto, l'indagine sul cimitero tangenti, la polizia apre le tombe. Andiamo a vedere ora sul messaggero le pagine di Chieti. Eccole qui. Consiglio via libera al prestito da 5 milioni, ma il PD non lo vota. Ora al Comune è possibile pagare i debiti con formula ambiente e le società partecipate. Il sindaco Di Primio abbiamo forza e idee per affrontare questo momento pesante. La delibera per ottenere liquidità ha ottenuto 25 sì a favore anche i grillini. Di spalla una stagione da sold out e adesso arriva il Falstaff al Maruccino. Nel taglio basso, droga sulle piste da sci, denunciati quattro giovani nel blitz a Passo Lanciano. Pagina successiva, quella della provincia, lancio di fumogeni, denunciati gli ultra con Daspo in arrivo, due tifosi recidivi, l'accensione delle torce allo Stadio Biondi, filmata nelle gare di Lanciano contro Baggi Calupo e Raiano. Di spalla, Ortona, no, l'aumento delle indennità, i fondi a strade e sicurezza. Questo arriva dal Consiglio Comunale. Poi le altre notizie. La coppia scoppia e crescono i divorzi, dati Istat, che parlano anche della situazione al Tribunale di Lanciano. E poi la maestra è ancora ai domiciliari, schiaffi e urla all'asilo. Monitoravamo la situazione, abbiamo agito nell'interesse dei piccoli, dice Vincenzo Parente sulla questione che riguarda l'asilo di San Salvo. Proseguiamo con le notizie dal Terramano. Prima di andare a leggere il giornale, andiamo su City Rumors, perché c'è una notizia dell'ultima ora che appunto prendiamo da cityrumors.it. Roseto ha trovato morto l'anziano scomparso, è stato trovato senza vita questa mattina a Fernando Marrone, 76 anni, del quale ieri si erano perse le tracce a Roseto. Il corpo, come leggiamo, è stato rinvenuto intorno alle 6 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Roseto nei pressi del Porticciolo, sotto il ponte della ferrovia del fiume Vomano. Questa dunque è la notizia dell'ultima ora. Ma torniamo ai nostri giornali, torniamo alle pagine di Terramo, ripartiamo dal messaggero e da quanto sta accadendo nelle indagini per l'accoltellamento a Tortoreto. Cistola piange in udienza, ma non risponde ai giudici. Se grava la posizione dell'accoltellatore di Giusi, per l'accusa si tratta di tentato o omicidio premeditato. Secondo la difesa, avrebbe lasciato un biglietto in cui aveva deciso di suicidarsi dopo l'aggressione. Il GIP di Terramo Marco Procaccini ha convalidato l'arresto, uno scenario raccapricciante. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Domani le celebrazioni solenni per San Gabriele, tanti pellegrinaggi in arrivo da tutta Italia. La Santa Messa sarà ufficiata da Monsignor Leuzzi. Nel taglio basso, 8.000 lampade e telecamere di videosorveglianza. La Smart City in arrivo a Terramo. Poi, sbarrato il mercato, ma è tra i rifiuti. Chiesto l'aiuto dell'ASL, la struttura di piazza della chiesa a Giulianova, interdetta all'ingresso dei malintenzionati, ma agli ambulanti non può bastare. Tutto attorno c'è sporcizia, oltre a coperte e materasse utilizzati dai clochard. Di spalla ancora Giulianova. I dipendenti rispettino le regole. Pena il licenziamento. Questo è il diktat del comune. Nel taglio basso, ancora Giulianova accuse social. Mastro Mauro, assoluzione per una donna. E poi a Tortoreto, tanti eventi, la fiera dell'agricoltura, il ritorno della fattoria degli animali. Sul centro, le pagine di Terramo. Eccola qua, tragedia a Nerito. rifiuta le cure e muore ragazzo di 29 anni. È la notizia in primo piano. Domenica era andato al pronto soccorso, ma è riuscito senza farsi visitare. Ieri si è aggravato ed è espirato in casa. La vittima è Andrea Glaz. Il sindaco ha tentato col defibrillatore, ma inutilmente. E poi era di Tottea. Il 14enne è morto per la bufera a Roma. Il ragazzino, schiacciato dal padre, caduto dal tetto, sarà tumulato nel cimitero della frazione di Crognaleto. Adesso il tentato omicidio di Tortoreto. Il PM e l'aggressione era premeditata. La procura contesta l'accusa più grave all'ex fidanzato tornato a casa per armarsi. L'uomo piange e non risponde al GIP. Nella sua abitazione ha lasciato un messaggio con cui annunciava il suicidio. I legali valutano la possibilità di ricorrere al tribunale del riesame. E poi ancora Giulia Nova, incendiata un'auto rubata da una donna ad Alba, Adriati, che poi purtroppo abbiamo visto già sul sito di cityrumors.it il pensionato di 76 anni scomparso da due giorni che questa mattina è stato trovato purtroppo senza vita nei pressi del porticciolo di Roseto. Proseguiamo ad Atri. L'area industriale si sta svuotando. Resta solo il degrado. Tra le criticità, anche una cabina elettrica con cavi a vista. Il sindaco Ferretti. La situazione va affrontata nel tempo. È ancora a Silvi inaugurata la nuova ambulanza della Croce Rossa. Sempre a Silvi. Mega parcheggio. Partono i lavori. Iniziata la bonifica dalle infiltrazioni d'acqua nella struttura di Via Roma. Proseguiamo con le notizie dal Terramano. Andiamo sulla città. Coltellate di gelosia dal carcere. Ha chiesto dell'ex fidanzata. Il 34enne accusato di tentato omicidio e violenza privata. Ha scelto di non rispondere alle domande del giudice. La vittima resta ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata, ma si è svegliata. Ha parlato con medici e parenti e presto uscirà dalla terapia intensiva del Mazzini. Serpaglia a fuoco. Fiamme a Casalena appiccate a un cantiere. E poi nel taglio basso spaccio di droga. Arrestati 14 marocchini. Notizia che riguarda Avezzano. Poi proseguiamo con Terramo. Quel rettilineo resta il punto più pericoloso nel luogo del terribile incidente stradale a Piano Daccio elevate ben 106 contravvenzioni in un solo giorno. Città spaccata sul ritorno del 2 di Coppe. Ancora nel capoluogo c'è chi plaude all'iniziativa di carattere a Marcord e chi invece critica perché sarebbe una scelta antimodernista. Pagina successiva. Marsilio invita i vertici ASL a rimettere le dimissioni. Per il governatore sarebbe un atto di correttezza nei confronti della regione per dare modo di decidere le nomine con serenità. Poi altra notizia di politica il PD Terramano si divide così alle primarie Ruffini per Martina Di Padova per Zingaretti e Bartolini per Giacchetti. Domenica il voto nei gazebo o nella sede storica. Ci spostiamo a Montorio. Sindaco senza maggioranza si dimetta dopo il caso mote durante il consiglio comunale Paolo Sacchini Andrea Guizzetti chiedono la testa di Facciolini. Maggioranza sotto durante l'assise civica battuta sull'atto per l'assegnazione di un terreno al mote. Siamo alla vertenza selta. Anche Piacenza chiede il tavolo al Mise i sindacati emiliani lanciano un appello per salvare l'azienda e i lavoratori piacentini e tortoretani. Proseguiamo adesso andando a vedere le pagine di sport e dunque partiamo dal quotidiano il centro iniziamo dalla serie A la profezia di Galeone Allegri andrà in premier così l'ex tecnico del Pescara svela i piani di Allegri vedremo se avrà ragione Galeone e se veramente Allegri andrà in premier ma adesso arriviamo invece al Pescara andiamo a vedere la doppia pagina dedicata proprio alla partita di questo pomeriggio il bivio promozione Benevento Pescara in palio un pezzo di serie A torna a Balsano ma campaniero parte dalla panchina Gravion centrale nel turno infrasettimanale il Delfino al Vigorito per difendere il terzo posto dall'assalto dei Sanniti Pilonne dice siamo pronti all'impresa parola al doppio ex Camplone zero pressioni ecco la forza del Delfino il pescarese ha allenato il Benevento nel 2010 Sanniti forti ma i biancazzurri possono fare male in contropiede Pilon per me meriterebbe il rinnovo andiamo a vedere anche le possibili formazioni dello stadio Vigorito partita che si gioca alle 18 arbitra Marini di Roma in campo il Pescara con Fiorillo in porta Balsano Scogna Miglio Gravion e Ciovani la linea 4 di difesa poi Crecco Brugman e Memushai a centrocampo Marras dietro le due punte Monachello e Mancuso il Benevento con Montipò in porta Volta Antei e Caldirola in difesa Maggio Teglio Crisekit Bandinelli e Letizia a centrocampo Coda e Insigne in avanti dunque questo lo scontro fra la squadra di Buchi e la squadra di Pilon Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport sul Messaggero sempre per la partita del Pescara prova di maturità per Delfino e Pilon a Benevento oggi il Pescara in campo tenta di saccare la concorrente all'aria entra a Balsano ma Campagnaro resta in dubbio dopo la risonanza all'adduttore poi ancora Biancazzurri attenti allo sgambetto di Bucchi l'ex di turno sei anni fa aveva iniziato proprio la sua carriera da allenatore sulla panchina Biancazzurra Cristian Bucchi e poi nel taglio basso di questa pagina questa pone piega il Napoli e va a più 5 restiamo sul messaggero e completiamo le notizie di sport sul messaggero appunto Teramo e Maurizio rinnovo biennale per quanto riguarda la Serie C il contratto che sarebbe scaduto a giugno è stato prolungato fino al 2021 il patron Campitelli commenta vuol dire che crediamo in lui poste le basi per la crescita della squadra in Serie D Pineto marzo mese decisivo per i playoff due punti di distacco dalla zona nobile che quest'anno conta poi il Francavilla Candeloro paga il premio speciale ogni tre vittorie consecutive scatta il bonus del patron poi il notaresco mantiene inalterate le ambizioni terzo posto assieme al Francavilla e domenica c'è il derby per quanto riguarda l'Avezzano Avezzano sfortunato non colpevolizzare nessuno è il mantra della società dopo la sconfitta al Valle Anzuca nella pagina successiva ancora Serie D con la Vastese che recita il mea culpa per la sconfitta nello scorso turno di campionato poi il volley di A2 con la SIECO che si complica per i playoff le due sconfitte consecutive hanno fatto perdere il terzo posto le inseguitrici sono ormai a un solo punto di distacco serve una reazione della squadra nella A2 di basket Roseto elogi dalla leggenda Bisson Baie e Achele grandi sorprese di questa squadra nel taglio basso la MotoGP Annone e l'Apriglia team italiano da portare in alto e poi l'Atletica il favorito Adugna campione di corsa campestre torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere le altre notizie nelle pagine di sport ripartiamo dalla Serie C e dal Teramo tra Teramo e Maurizio c'è l'intesa per un biennale il tecnico potrebbe rinnovare il contratto fino al 2021 mese di marzo decisivo nella corsa per la salvezza ecco qui il mese verità Teramo-Fermana il 3 di marzo poi Albinoleffe Teramo il 10 Teramo-Virtus-Verona il 17 Gianerminio-Teramo il 24 Renate Teramo il 31 andiamo nel volley di A2 Simoni in campo dopo la proposta di matrimonio il centrale della Siego in Pavida infortunato punta a rientrare sabato sera a Cuneo e poi nel taglio basso il calcio a 5 la capolista vola Vellino e Lima rilanciano l'acqua e sapone Napoli al tappeto pagina successiva con le abruzzesi delle girone F di Serie D real Giulianova a picco Bartolini difende Bolzan per i giallorossi solo 6 punti in 8 gare con il nuovo tecnico e play-out più vicini il patron è colpa degli infortuni e degli arbitri domani intanto c'è la semifinale di Coppa poi in eccellenza Ricci gol per il Miochietti che emozione il capitano e match winner neroverde Serie D da conquistare al più presto in serie in promozione la protesta Ortona contro arbitro e Giancole il Casalbordino solidarizza qui abbiamo i protagonisti del calcio giovanile al Badriatico in fuga Pucetta sorride Rive esagerato 10 gol al Casalbordino e poi ancora nelle pagine di Sporta Machele ha un chiodo fisso fare i playoff con Roseto nel basket di A2 l'ala dei D-Sharks protagonista del successo contro Udine venire qui la scelta migliore che potessi fare al primo anno da professionista poi siamo in serie B di Fabio l'amatori alla final eight di Coppa per lasciare il segno parla il patron dell'amatori in atletica caporale di orio da applausi il teatino oro nei 3000 metri italiani master la velocista Vastese prima sui 200 nel taglio basso a Pesco Costanzo viene conquistato il trofeo delle Rocche andiamo a vedere anche la città così diciamo concludiamo la nostra rassegna stampa con le pagine di sport della città Teramo è fatta per Maurizzi hashtag Maurizzi 2021 accordo trovato nei giorni scorsi con il tecnico che prolunga con la società di Campitelli discorsi avviati anche per i prolungamenti di De Grazia e Persia questi insomma i movimenti in società e nello staff tecnico obiettivo mediana i due centrocampisti nelle intenzioni della dirigenza sono due pedine per il Teramo futuro nella pagina successiva in serie D rimonta Sant'Arcangelo e Real stecca ancora con le polemiche che riguardano proprio il Giulianova in eccellenza al Blackout Alba sale il Nereto respira il Ponte Vomano e per il Basket Domenica Mara stop per Teramo e Giulianova siamo così arrivati al termine della nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con mattino 6 e per domani alle ore 8 invece oggi la nostra informazione come sempre alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 edizione delle 19 che verrà anticipata di un quarto d'ora nell'intervallo della partita del Ciro Vigorito fra Benevento e Pescara per consentire appunto di seguire al meglio la partita nel corso di diretta stadio che partirà alle 17 e 30 con Andrea Costantini e i suoi ospiti qui in studio Paolo Renzetti da Benevento per il commento della partita e il dopo gara poi alle 21 ci sarà anche Pro Teramo per commentare insomma gli sviluppi in casa Teramo e anche il rinnovo di Maurizio è davvero tutto adesso grazie ancora e buona giornata Grazie a tutti